Salve a tutti ragazzi e ragazze d'Archini e d'Archine, oggi siamo qui con questo piccolo video perché vi voglio far conoscere una persona importante, un mio carissimo e grandissimo amico di nome Mickey Michael. Lui è qualcosa di eccezionale, ha un problema e è disabile però vi voglio far capire determinate cose, quindi mi raccomando con questa clip sarebbe la sua intro ragazzi che è fighissima, io vi lascio con questa intro e mi raccomando iscrivetevi al suo canale ci sarà ovviamente il link in descrizione, mi raccomando ragazzuali per me è importante che voi vi iscriviate al canale di Storto ma non troppo, a voi la clip Sei storto? Sei scemo? Bassino? Sei brutto? Mi sembri uno nuovo con le gambette corte Con le manine storte, con 4-5 menti, tu sei veramente storto Sì, ma non troppo Ragazzuali, io spero che questa piccola clip vi è piaciuta, questa è la sua intro come vi ho detto già all'inizio del video Ragazzi, che dire, un grandissimo personaggio nel mondo di YouTube una persona molto 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 gentile e intelligente mi raccomando iscrivetevi, il link è sempre in descrizione e grazie a tutti per la visione Ciao ragazzuali Grazie 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 Grazie